Un nuovo metodo di autenticazione renderà più sicure le operazioni che effettui online sul tuo conto corrette. Cosa cambia? La nuova direttiva europea, PSD2, introduce l'obbligo di generare un legame univoco fra ciascuna operazione e la sua autorizzazione, in aggiunta alla verifica dell'identità attraverso due o più fattori di riconoscimento, tra conoscenza, PIN e password, possesso, token virtuale, inerenza, impronta digitale o Face ID. Con il nuovo sistema potrai scegliere se effettuare la tua autenticazione utilizzando l'SMS token o l'app PlayinPay in modalità QR Code, che ti consigliamo perché più veloce e senza costi. Se scegli PlayinPay dovrai prima di tutto scaricare o aggiornare l'app su Google Play o Apple Store. Dopo aver inserito le credenziali per finalizzare le operazioni, dovrai inquadrare con il tuo smartphone il QR code che apparirà sullo schermo del tuo PC. Si aprirà subito sul tuo cellulare l'app PlayinPay e dovrai inserire il tuo PIN per confermare l'operazione oppure annullarla. Visto? Con l'app PlayinPay, con due semplici mosse, puoi operare sul tuo conto in totale sicurezza. Se invece scegli l'SMS token, riceverai sul tuo smartphone il codice OTP che in aggiunta alla tua password di login ti servirà per accedere o effettuare disposizioni. Attenzione! Con il nuovo sistema non sarà più richiesta la password dispositiva. Tutto diventa più immediato e sicuro. Per maggiori informazioni vai sul sito della banca o contatta il numero verde dell'assistenza clienti.